Io ascolto anche quello che il Movimento 5 Stelle diceva prima delle elezioni amministrative, io ricordo sei mesi fa quando il sindaco Raggi diceva che lei accoglieva i fratelli e le sorelle migranti, io non ho fratelli e le sorelle migranti. Però ha anche chiesto di non far arrivare più rifugiati a Roma. Nel momento in cui hanno preso una scopola alle elezioni amministrative allora hanno fatto marcia indietro. Allora io penso che la questione immigrazione sia una questione seria, non è una questione solamente da sbandierare se vinci o se perdi le elezioni e di conseguenza devi essere coerente con le tue proposte e con le tue idee. Perché non è mai piaciuto a questa maggioranza e non è mai piaciuto a una parte italiana le proposte che faceva la Lega e le idee della Lega. Però io dico una cosa, sono sempre state proposte coerenti e ahimè, alla luce di quello che sta succedendo, forse ci abbiamo visto lungo. Ci abbiamo visto lungo perché le proposte che ha fatto Minniti sono andate nella direzione di quello che abbiamo sempre detto noi, quello che sta dicendo l'Europa dell'Italia. Quindi riconosce a Minniti una certa... Sì, sì, lo riconosciamo, l'abbiamo sempre riconosciuto. Sì, sì, ma a Minniti riconosciamo il fatto che quando noi dicevamo che bisognava accelerare i tempi di identificazione e ci dicevano che noi eravamo cattivi, adesso la proposta c'è. Questo l'abbiamo detto sempre anche noi. Eh sì, però non lo facevate. L'abbiamo detto sempre anche noi. Però non lo facevate, tradirlo e farlo... Bisogna rivedere Dublino. No, no, gli accordi di... Allora, anche qua, allora, signori, non diciamo stupidate. Nel momento in cui un migrante entra nel nostro paese, in Italia, e ci metti più di 300 giorni per identificarlo, e invece un migrante entra in un altro paese e la media europea è 45 giorni... Non c'entra niente Dublino, c'entra il fatto che in Italia ci metti 300 giorni e nel resto dell'Europa 45 giorni. E noi dicevamo, dobbiamo ridurre i tempi di identificazione, ci dicevano che eravamo razzisti. Quando noi dicevamo che bisognava... Questo l'abbiamo detto sempre anche noi. Quando noi dicevamo che bisognava fare gli accordi con i paesi di origine, cosa ci dicevano? Che eravamo cattivi. Quando dicevamo che chi non ha diritto a stare nel nostro paese deve tornare, deve essere rimandato a casa sua, cioè deve essere rimpatriato, ci dicevano che eravamo cattivi. Adesso nel decreto Miniti c'è tutto questo. A me va bene, ripeto, mi va bene, però... Sono anni che lo stiamo dicendo, sono anni... Va riconosciuto alla Lega quello che dice con coerenza da molto tempo. Quindi la gestione dell'immigrazione, ripeto, è una cosa seria, e non è solamente uno slogan, e di conseguenza deve essere gestita in modo serio. Come l'AIM.